PEGI 18 E potrai infatti finalmente giocare alla beta multigiocatore Tra l'altro il 14 ottobre esce anche il mio disco Terza stagione per cui fate una bella doppietta E voi ragazzi del team SATO e del team SETDEF Vi affronterete in diretta dallo stand di Call of Duty Alla Milan Games Week Tutto chiaro ragazzi? Ad annunciare la prossima sfida e a rivelare il team vincitore Ci sarà la mia amica Bella Rodriguez Non mi resta che augurarvi in bocca al lì For the players